Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Covid-19 in provincia di Latina, ieri i numeri ancora alti, 1.315 nuovi positivi. La città maggiormente colpita è sempre il capoluogo di Latina con oltre 300 casi, poi anche le città del sud Pontino dove spiccano i 92 positivi a fondi, gli 81 a Terracina, i 76 in turno, i 74 a Formia. Via via tutti gli altri, nel bollettino di ieri colpiti tutti i comuni pontini, tranne due centri del sud della provincia, ovvero parliamo di Campo di Mele e Ventotene, che non hanno fatto registrare nuovi contagi. Purtroppo si continua a morire di Covid, ieri altri 5 decessi in provincia, di cui anche un paziente di Itri e uno di Terracina. 92 sono i guariti nelle ultime 24 ore, 11 le persone ricoverate in ospedale. A Sessaurunca, nell'Alta Campania, apre un nuovo hub vaccinale dedicato ai bambini. Il sindaco di Sessa, Lorenzo Diorio, ha deciso di attivare un nuovo centro vaccinale pediatrico. La struttura sarà attiva a partire da sabato 15 gennaio nei locali dell'Istituto San Leo. Diorio, rivolgendosi ai cittadini, ha spiegato l'importanza di tale scelta anche per velocizzare l'immunizzazione dei più piccoli che in questa fase della pandemia sono tra i soggetti più colpiti. Incendio a bordo e nave in balia delle onde a largo di Ponza e quanto è stato registrato nella nottata di martedì 11 gennaio e di cui si è avuto pieno riscontro nella giornata di ieri quando sono iniziate le operazioni per recuperare la nave. Parliamo della Beniamino Carnevale, dell'accompagnata in regna di circa 150 metri di lunghezza. La nave, partita da Napoli alle 20 circa con destinazione Cagliari, aveva a bordo 22 persone dell'equipaggio ed 8 passeggeri. L'incendio in sala macchine non ha coinvolto persone ma ha reso impossibile riavviare i motori. Visto il mare mosso, complesse anche le operazioni del rimorchiatore chiamato in soccorso dalla Guardia Costiera. L'aggancio è avvenuto nella serata di ieri e la nave torna nel porto di Napoli quest'oggi. Singolare è la questione dei reperti presenti nei luoghi pubblici di Itri che apparentemente avrebbero una provenienza sconosciuta. Nello specifico il sindaco di Itri Giovanni Agresti avrebbe provato a ricostruire la storia e la provenienza di diversi reperti posti nel palazzo comunale ma anche nel castello e nella biblioteca senza riuscire a trovare nulla che attesti la provenienza. Per tale motivo il primo cittadino avrebbe sporto denuncia querela contro i gnoti. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radio.